E' stato condannato all'ergastolo nel 1927. Dopo 40 anni si sente riabilitato? Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero non so cosa significa questa parola. Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire... Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici. In modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o la gravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto? Sì, certo. Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo come ero allora. Un giovane... Stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo. E non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità... Non me ne frega niente.